Perché abbiamo inventato Bipop? Abbiamo pensato tempo fa che alcune aziende, piccole aziende come ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie eccetera, non avessero bisogno di pubblicità, ma avessero bisogno di comunicare direttamente. Io dico sempre a tutti i miei clienti, la pubblicità è come se fosse una vetrina. Bipop è come se fosse la vetrina, ma anche il cliente che entra dentro al negozio e chiede al titolare, voi cosa fate? Ecco Bipop è il modo di comunicare direttamente ai nostri lettori. Lo scopo di Bipop è quello di apparire con la propria faccia, di fatto uno dei nostri motti è mettici la faccia, costantemente, settimanalmente all'interno delle nostre piattaforme, nel nostro sito, nella nostra pagina Facebook, su YouTube e sul nostro Instagram. L'obiettivo è quello di dare una comunicazione graduale, costante e far conoscere ogni volta qualcosa di diverso. Oltre alla comunicazione classica fatta di contenuti social e articoli per il nostro sito, ci sono tanti altri servizi come ad esempio contest, come ad esempio il giornale estivo per i turisti, ma la cosa che ci contraddistingue più di ogni altra cosa è la nostra consulenza H24, che vi permetterà eventualmente anche di cambiare strategia nel corso dell'anno. Vi aspettiamo in Bipop, il servizio commerciale più pop di sempre.